Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione di scienze, in particolare è una video lezione di fisica. Oggi parleremo del primo principio della dinamica. La dinamica è la scienza che studia il modo dei corpi e le forze che determinano il modo. La dinamica è basata su tre principi fondamentali, formulati da Newton. Infatti questi tre principi sono anche noti come leggi di Newton. Il primo principio della dinamica è detto anche principio di inerzia. Ma cos'è l'inerzia? L'inerzia è la capacità di un corpo di mantenere il suo stato di quiete o di modo rettilineo uniforme. Esempio, immaginiamo una slitta o uno slittino che si muove sul ghiaccio, questo corpo in assenza di forze esterne continua a muoversi di modo rettilineo uniforme. Oppure una biglia che rotola sul pavimento. Ovviamente in tutto questo dobbiamo escludere l'attrito, che è una forza che si oppone al moto. Vediamo adesso cosa afferma il principio di inerzia. Secondo il primo principio della dinamica o principio di inerzia, un corpo conserva il suo stato di quiete o di modo rettilineo uniforme finché non intervengono forze esterne. quindi questo è il motivo per il quale si chiama principio di inerzia. Consideriamo un pallone da calcio. Il nostro pallone fermo sul campo mantiene il suo stato di quiete finché non arriva un calciatore a esercitare una forza su di esso e quindi poi a provocare un cambiamento di moto. Quindi quando agisce una forza su un corpo, questo corpo cambia il suo stato. quindi ad esempio il nostro pallone era in quiete, il suo stato diventa in moto perché ha subito l'azione di una forza. Oppure se il pallone sta rotolando e qualcuno lo blocca con il piede, in quel caso, dallo stato di moto, il pallone è passato allo stato di quiete. Anche il libro appoggiato sul tavolo resta fermo finché su di esso non viene applicata una forza che lo mette in moto. Esempio di cui parlavamo prima, le biglie. Una biglia che rotola su un piano liscio continua a rotolare finché non interviene una forza esterna. Esempi classici del principio di inerzia. Quando saliamo in un mezzo di trasporto, quindi che sia il pullman o che sia l'automobile, noi in quel momento, quando l'automobile è ancora ferma, siamo fermi rispetto al terreno esattamente come l'automobile, quindi siamo fermi rispetto a questo sistema di riferimento. Nel momento in cui l'automobile inizia a muoversi, il nostro corpo viene spinto all'indietro perché il nostro corpo tende a mantenere, per inerzia, il suo stato di quiete iniziale. Dopo un certo tragitto, se l'automobile o il pulmino frena, cosa succede? Il pulmino si stava muovendo secondo la direzione rossa. Frena, cosa succede al passeggero? Il passeggero tende a muoversi nella stessa direzione, quindi seguendo la freccetta azzurra. Perché? Perché tende a mantenere il suo stato di moto che aveva prima della frenata. Quindi è per questo che quando siamo in un mezzo di trasporto e il mezzo di trasporto frena, noi veniamo spinti in avanti. Tutto questo è causato dal principio di inerzia. Perché abbiamo detto che l'inerzia è la capacità di un corpo di conservare il suo stato di quiete o di moto in cui si trova. Questo è il testo del principio di inerzia che compare, ovviamente tradotto, all'interno delle opere di Newton. Newton ha presentato tutti e tre i principi della dinamica nel 1687 nell'opera Principia matematica, i principi matematici della filosofia naturale. Chiamò questi tre principi assiomi proprio per ricordare che, come gli assiomi di Euclide sono fondamentali per la geometria, anche questi tre principi sono fondamentali per la dinamica. Grazie a tutti!